Max, qual è la differenza tra comicità e ironia? Amore, tu lo sai qual è la differenza fra una fidanzata e una moglie? Eh, vabbè, sì, ma che c'entra sono... È brilocco, amore. Amore, ma abbiamo una figlia qua, abbiamo una famiglia... Non è anche amante, amore. A questa domanda ha risposto un bel po' di tempo fa Pitandello, in un modo che, secondo me, è abbastanza esplicativo. Quindi leggerò esattamente quello che Pitandello ha risposto. E lui dice questo. Vero una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti, non si sa bene da quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata da abili giovanili, e mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere in sé l'amore del marito molto più giovane di lei. Ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andare oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto più addentro. Da quel primo avvertimento del contrario che mi ha fatto passare, a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico. Ecco io credo che a questa riflessione non ci sia nulla da aggiungere, perché è chiarissima ed è veramente molto bella.